Donel, cosa pensi del match contro Scafati? Sì, sarà un buon match, ho sentito che sia un derby game, quindi mi piace i derby games, i fanci saranno fuori, e vedo anche alcuni ragazzi sul loro team, quindi sarà un buon match. Sai che sia un match molto importante per il team e per i fanci? Sì, sì. Mi sono detto che sia un derby game molto intensissimo, quindi dobbiamo andare in giro e giocare in giro, e spero che la nostra offenza reagisce alla nostra offenza. Un'altra domanda, un'altra domanda, qual è la vostra condizione fisica? Sì, è stato molto migliore. Mi sento migliore in giro in giro, e stavo un po' più lungo, quindi devo continuare a fare ciò che ho fatto durante le settimane, in giro, in giro e in giro e in giro, in giro e in giro, e mi sento bene. Un'altra domanda, anche se il team cresce dopo il grande match con la Torre? Sì, sì. Credo che molto si tratta di avere con me e Kevin venire in giro in giro, dovevamo trovare i ragazzi sul team, e noi, ma ora tutti si sentono felici con tutti i gioco, e ci siamo fatti da un'altra. Grazie mille. Grazie. Grazie mille.